pallonbelli gruber le telegiornaliste quando entrano in trasmissione in contemporanea in genere si fanno una sorta di guerra molto femminile cioè a colpi di look per contrastare magari in contrasto tra di loro per esempio da un po di tempo lilly gruber esce sempre con una giacca nera con nero grigio sulle tonalità tono su tono nero e grigio sempre in giacca e comunque coi tacchi alti solito seduta a bordo bordo seggiola mentre barbara pallonbelli si sbizzarrisce si sbizzarrisce in tanti colori e soprattutto facendo sfoggio di di bijoux di spille spilloni orecchini braccialetti copiando da da giornaliste abbastanza sconosciute lei copia a piene mani come una sorta di di come si dice di vampira insomma perché succhia dappertutto soprattutto da questa da questa giornalista sconosciuta che fa sfoggio appunto di bijoux e lei li copia poi non solo ma copia la sua storia e copia le sue insomma a piene mani come una sorta di facendiera che ha sempre le mani in pasta infatti lei la pasta che preferisce la pasta boitoni la pasta boitoni e che infatti manda sempre in pubblicità mentre la gruber in pubblicità ci manda il caffè trombetta caffè eccetera eccetera insomma si fanno tutte queste queste piccole battaglie femminili di insomma che comunque fanno anche i reali perché i reali per esempio quando escono danno sempre dei messaggi appunto con le spille con con le borse le pochette e con i colori dei loro abiti in più la pallonbelli esce sempre con un microfono in mano come a dire il segno del comando ce l'ho io questa sorta di microfono che comunque si che maneggia anche continuamente la de filippi ecco pallonbelli ha copiato anche dalla de filippi insomma la pallonbelli e non ha ancora trovato una sua identità scopiazza da uno dall'altro soprattutto da chi dalle giornaliste che sconosciute perché così lei può impossessarsi tranquillamente della loro identità e dello loro delle loro delle loro performance eccetera per cui insomma questo c'è questo sempre questa piccola battaglia che a colpi di di audience vince comunque sempre lili gruber perché è più autorevole più più disincantata e soprattutto perché è una giornalista con la schiena dritta infatti sta seduta sempre a schiena dritta bordo bordo seggiola grazie 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 grazie